anche se si rotola non fa niente non cammina, non fa la macchina ora c'è la macchina ok, va ferma, ferma, ferma non non Sì semmeno ancora una volta Quasi cali? Slot ventrale Non è che vuol dire Ok, come in alto roto Tira sulla testa che si vede la cicatrice che è provata Fatti vedere Non è un falso Poi addirittura tenta di fare la corsetta Sì, sì, me lo immagino Vuoi vedere come si tratta? Perfetto 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 Perfetto